Ciao ragazzi, sto cercando di catturare questo maiale, cinghiale, quello che è e si tratta di un timing passivo, ossia vi dovete mettere delle bacche sulla barra e poi a mano a mano che lui le mangia, le finirà, le bacche sono queste qua, si chiamano elderberry, vi avvicinate al suo muso e gli date da mangiare. Bene, questo sta già quasi a metà, vedete che mangia le bacche, quando tornerà la sfitta azzurra vi potete dare un'altra bacca. Non è difficile, non è complicato, non richiede nessun tipo di arma, quindi dovrebbe, adesso questo qui era un livello bassissimo ma è giusto per fare una prova, per vedere se si può prendere. Poi dopo date un nome, Rory, e quindi l'avete catturato.